Musica E buongiorno e buonasera a tutti Bentornati sul mio canale Questo è Forza Horizon 3 Siamo al decimo appuntamento con questa serie Eccoci qua con la nostra Ferrari Dino 246 GT Appena restaurata Era un catorcio quando l'abbiamo ritrovata Il nostro primo gioiello dimenticato Ma quanto è bella Mamma mia che spettacolo Andiamola a vedere da dentro Mamma mia che spettacolo ragazzi Veramente veramente bella Un'auto Storica Certo come prestazioni non siamo proprio Al massimo Però Dai diciamo che Fa la sua porca figura Soprattutto l'estetica Mamma mia quanto è bello Poi il campanello è E' tutta una questione di stile Andiamo a provarla Ok è un polmone Però giustamente E' un'auto Di una certa annata In quegli anni non facevano le auto proprio sportivissime Però però dai Siamo qui nel Sempre nella zona Hot Wheels Ecco quella è una Ferrari Come si deve F50 Anche se io Amo Adoro la F40 E' qualcosa di Di unico Inimitabile Ah qui Attenzione Ci andiamo a schiantare contro le rocce Perfetto No visto che c'è un cartello Ok 200 miliardi di macchina L'abbiamo già distrutta No che cosa ha fatto Ci ha portato Chi le ha detto di resettare Ma Già dico io Dovevi andare qua sotto Ci faccia andare qua sotto Ma Vabbè Passiamo da qui allora Qua possiamo starci? No Voglio spaccare questo cartellone 5000 punti esperienza Cioè Oh abbiamo un nuovo livello Perfetto Andiamo A vedere un po' Progressi Eh si Ruota della fortuna Andiamo a vedere No la Jeep Grand Cherokee Non mi interessa Toyota Selica GT Bello Bello schifo Va bene Comunque è una macchina Storica Che io non avrei mai preso Quindi Regalata Vinta Penso che possa anche andare Negozi abilità Abbiamo due punti abilità Vediamo come possiamo Utilizzarli Allora Abilità distruzione Assolutamente Aggiudicato Perché noi Andiamo a distruggere Tutto il possibile E l'immaginabile Qui abbiamo Social Vediamo Centro messaggi Ah si Giustamente Il nostro Drive Continua a fare gare E continua A Accumulare soldi Benissimo Comunque Comunque Allora con quest'auto Con quest'auto Vediamo un po' Cosa possiamo fare Perché c'era Ecco qua Lista dei desideri Andiamo a vedere questa Lista dei desideri Così Ci facciamo un giro Con qualche macchina Bella Bella sportiva Forse Sicuramente Lista dei desideri E' una di quelle auto Che faresti fatica A comprare Che te la fanno provare Per battere qualche record Vediamo Vediamo Mamma mia Dai che ce la fai Dai Dai Ecco Il campanello Così della bicicletta Penso che sia Adeguato Questa macchina Perché Non va Nulla No vabbè Ma con tutte le Tutte le auto che ci sono Proprio la Mini Mi deve far guidare Sappiate che io Non amo le Mini Anzi Proprio Mi fa schifo Però Dominiamo l'iper giro Della morte Sulla Mini Cooper Del 2012 Mamma mia Non mi piace proprio Stamacchina Poi presto Prestazionalmente Mi dicono Sì è una Una gran macchina È comunque Bel motore Bello spinto Però non mi piace Veramente Attenzione Attenzione Sì intanto Sì intanto sotto Abbiamo una musica Molto famosa Però Meglio spegnere la radio Perché qua Con il copyright Non si scherza Su Youtube Dai dai Prendiamo velocità Vai Siamo in sesta A 290 Giustamente Sta macchina Non li farà mai 290 Nella sua vita Però Giustamente Con il L'iper veloce Mamma mia 323 Ragazzi Bellissimo Bellissimo Mi sono divertito Però Eh beh Grazie Obiettivo Raro Stiamo Sbloccando 4000 Ma ci dia qualcosa Di più No Quindi Ce ne mancano 4 di medaglie Dai 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 Che ce la possiamo fare Voglio sbloccare Il prossimo livello Però adesso Con questa Ferrari Mi sa che Dobbiamo andarla Un attimino A posare Perché Ovviamente Non va bene Per fare questa Questa tipologia Di gare Qui abbiamo Questo qui Vediamo un po' Lista dei desideri Hot Wheels Forse possiamo Trasferirci qui Ci vuole un po' Però Sì dai Ci trasferiamo qui Molto lentamente Si Si tranquillo Tranquillo Tanto Vabbè Comunque Vi taglio Tutto Questo pezzo Anche perché Siamo anche con la pioggia No 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 Con sta macchina Non ce la fare Non arriveremo più Quindi Vi taglio il pezzo Ci vediamo Quando siamo Giunti A destinazione Eccoci qui Siamo arrivati Oh Una bella Mustang Vai Perdiamo l'orientamento Su questa Ford Mustang Hot Wheels Cattiva Quindi Zona di velocità Dobbiamo superare L'obiettivo Di 209,22 Mamma mia Quindi la velocità media Dobbiamo tenere A 209 In quella spirale lì E vabbè Mi dica lei Ma non si può andare più qua Ok Cioè quel turbo lì Ci fa perdere completamente La velocità Cioè ci dà velocità Ma ci fa perdere la strada Dai 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 che se la teniamo Ci siamo Ci siamo Bellissimo 218 Vai 4500 Sono degli avari Dai due ce ne mancano Ragazzi Ce ne mancano due Dai 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 Che voglio andare Al round successivo Adesso ovviamente Andiamo a cambiare macchina E prendiamo la nostra La nostra auto Da Hot Wheels Allora Allora Vediamo un po' È solo che io devo tornare In questa zona qui Sono un cretino Sì No 8800 crediti Non ce li spendo Quindi ci andiamo Così Salve E ci vediamo Quando siamo arrivati Eccoci qua Siamo arrivati Non vi dico La fatica per arrivare qua Mamma mia Ragazzi È stato un tormento Allora Allora Vediamo un po' Garage Le mie auto Andiamo Ok Questa prima o poi La prendiamo Ci prendiamo Questa qui Anzi Questa è meno potente Però Ce la regalano Quindi Prendiamo questo qui È più Prepotente Dai Anche questa Esteticamente È uno spettacolo Mamma mia Cioè È proprio Assurda È una Hot Rod In puro stile americano Vai vai Subito Non perdiamo tempo E Andiamo Dove Curve di fuoco Vediamo se riusciamo A farci Sì Dai Andiamo qua Mamma mia Cattiveria Ragazzi Ok Salve Va bene Direi Di tenere Questa Visuale Qui Però Scusate Un attimo Io La voglio Spenta La radio Me la continuano Ad accendere Incredibile Ogni volta Che cambio auto La radio Si accende Va bene Come vorrei Insomma Per me Non sarebbe Un problema Il problema È caricare I video Su youtube Che poi Me li bloccano Per copyright Ovviamente Comunque È cattivissima Sta macchina Mamma mia Di una tamarraggine Incredibile Si ho capito Ma Si si sta roba Non è su di giri Quello che vuoi Ma Mi fai fare Una gara E poi mi sblocchi Le altre Cioè Ancora non ho fatto Queste qui Ma quante me ne sta Sbloccando E vabbè Continuiamo Così Cioè Fammi fare Sta gara Mamma mia Allora Punteggiabilità 15.000 In una sola catena Oddio Andiamo Si si Andiamo con questa Vai vai Qua Mi sa che faremo Un po' di macelli Eh Qua eh Perché di solito Non li facciamo Circuito Spuma Marina Bello Buona la spuma Vabbè Non c'entra niente Però Via via Subito in gara Vai Ah Siamo in gara Anche con Quel tale Ale E Zio Davi Perfetto Perché gli altri Se ne vanno E invece noi Rallentiamo In salita Gli altri Hanno le macchine Ok Questa mi è piaciuta Niente La nostra Non ha frenato Assolutamente Vabbè Accentiamola Così com'è Sarà più difficile Vincere Dai Dai che tanto Vi vengo a prendere Non vi preoccupate 320 Ragazzi Ok Già uno Guarda che si schiava Questo qua Ma cosa fai Così Si tiri su Dai La vita è bella Non si è così Eh vabbè Facciamocela così Allora Gustafson Tutta indarapata Vai Vai Niente L'auto non vuole saperne Eh Di rimettersi Oh Incarreggiata Mamma mia Niente Completamente Ingestibile Guida pulita Pulitissima Guarda Proprio Una guida Super pulita Dai che sono ancora tutti lì Se non ci ribaltiamo noi Li andiamo a prendere Dai 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 Tanto sono due giri Ancora non abbiamo completato il primo Però ragazzi Sarà difficile Io Non voglio rifarmela Sta gara Dai Dai Eh però questa Ha soltanto sei marce Infatti Ne avevamo presi Ha solo sei marce Si ferma a 2.65 Ho visto Peccato Invece l'altra Otto marce Arriva fino a 3.20 Eh sì Se non vi appoggiate Però Cos'è sta Allora Ma che Vai L'abbiamo fatta meglio Stavolta Eh Signor Gustafson Si tolga Si tolga Per favore Non mi faccia perdere tempo E non mi spinga Come prima Adesso vengo a prendere anche lei Signor Ferro Stag Dai che ce li abbiamo ancora tutti lì Forse il primo non lo prenderemo mai però Uh 3.45 3.45 ragazzi Eh però se No vabbè questa cosa non è Non è assolutamente possibile però eh Cioè non può atterrare storta la macchina No mi faccia andare più indietro Cioè Dai Se può atterrare dritta Grazie Ok Anche prima ci ha fatto sto scherzo Bella Si è derappata Vai Derappata Hot Wheels Signor Quelta Leale Si prepari Che stiamo per venirla a riprendere Sì comunque è ingestibile sta macchina Mamma mia E' qualcosa di Incredibile E siamo ottavi anche questa è incredibile Dai però qualcuno lo voglio prendere eh Per favore Tanto le tre stelle non le prendiamo Ok Ok Almeno Dai almeno quinto Niente Nulla nulla Eh però se mi rimette così Scusate eh Se uso tutti questi flashback però Oh comunque quel tale ale non lo prendiamo Incredibile Eh Si tolga lei per favore Non spinga Dai 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 Che ce la facciamo dai Niente Porca miseria quinto Ragazzi Tra gente che spinge Macchina che non tiene la strada Uh l'abbiamo vinta Che spettacolo Bellissimo Bellissimo Purtroppo mi si è interrotta la registrazione Ha saltato proprio il punto in cui arrivavamo Comunque abbiamo Guadagnato 22.900 credit E essendo arrivati Quinti Assurdo Adesso abbiamo vinto Sta macchina Termina la corsa Eh Quella non l'abbiamo fatta Niente Dobbiamo vincere Ok dai Io direi Possiamo terminare qui questo video Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto Lasciate un mi piace Lasciate un commento Condividete il video E ci vediamo a una prossima puntata di Forza Horizon 3 Un saluto a tutti da Hasbrald